Roger! È una follia! Non siamo al sicuro qui! Dobbiamo andarcene! Capitano! Cercatemi, ragazzi. Benvenuti in cena. Ada! Aspetta! Non abbiamo scelta! Dobbiamo ucciderlo! Farebbe lo stesso per noi! Marco! Marco! Non muore nessuno! Non muore nessuno! Si! Non muore nessuno! Non muore nessuno! Non muore nessuno! Sto arrivando! Sto arrivando! Sto arrivando! Sto arrivando! Non muore nessuno! Sto arrivando! 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 Ah